Weber sta per avere un infarto? Vattene via. Dove? Non mi interessa, vattene subito. È molto carina. Mamma! Com'è andata la colazione? Chiarificatrice. Se quello che dice Richard è vero, è tempo che tu venga a Boston. Che cosa ha fatto? Aspetta un secondo, ok? Ho visto le cose vergognose che succedono negli ospedali Pegasus. Se le alternative sono lavorare per loro o che l'ospedale chiuda per fallimento... Un attimo, ok? L'ospedale non chiuderà. In tempi incerti, uomini come Jackson e me devono tenere duro. Non possiamo fare i bagagli e fuggire al primo problema che abbiamo. Un uomo che non si piega al vento dei cambiamenti è un uomo di cui puoi andare fiera. Sei poetico. Dico solo di frenare e vedere che succede. Non credo che... Mamma, sono d'accordo col dottor Weber, con... Con Richard. Non posso dire che mi piaccia questo. No, no. Può...